E ora siamo pronti per annunciare l'incontro valevole per il vacante campionato del mondo WKN categoria 62 kg L'arbitro d'incontro sarà il signor Raffaele Claudio Aveni La disciplina è il K1 Rules La distanza è quella dei 5 round da 3 minuti Il supervisor per il WKN è Riccardo Lecca Ed ora i due protagonisti all'angolo blu Fai il suo ingresso sul ring 55 incontri disputati, 40 vittorie, 12 sconfitte e 3 pari per lui Per il Team Nasser da Lione, Francia Brandon Vieira Brandon Vieira Brandon Vieira Contro di lui All'angolo rosso 29 incontri disputati 19 vittorie per lui 7 sconfitte e 3 pari Campione d'Italia e campione d'Europa Waco Pro Per il Team Fighting Spirit da Roma, Italia Al Sandro Moretti Per il Team Nasser 3 VGet Quattro Moretti! E' la prima ripresa, first round! E' la prima ripresa! 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 E' la prima ripresa!